Cioè, lei lancia un appello, mettetevi la mascherina e cercate di stare distanti, lo dice lei? Ma io personalmente, la mia opinione è assolutamente no, non l'ho mai fatto e non invito a seguire queste regole folli e inutili. Poi, voglio dire, ho anche fatto un'istanza che ho mandato in maniera urgente al sindaco oggi per chiedergli di annullare la sua ordinanza, che è piena di falle. Il sindaco di piazza ha emanato un provvedimento, il provvedimento è un provvedimento amministrativo, se il legittimo si impugna e il TAR lo sospende, invito Rossi a impugnarlo e vedremo come va a finire. E questi domani devono rispettare le regole, perché se non rispettano le regole saremmo anche noi autorizzati a non rispettare le loro regole. Cioè, il rischio è che poi, non so, saranno vietate queste manifestazioni, non le concederanno più se domani non si rispettano le regole. Non possono, è un diritto costituzionale, non possono vietare le manifestazioni. Ma tu hai il diritto costituzionale, però è anche la salute, bravo, è tutela della mia salute. Allora, tu hai il diritto di manifestare, ma io ho il diritto di non ammalarmi. Cioè, vuole avere ragione contando i morti, c'è la cosa disumana, ed è disumana e inaccettabile, no, 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 taccia perché parlo io. Lei vuole poter contare i morti e quando conteremo i morti lei sarà contento. Questo lo lascia lei, guardi, è una cosa tremenda quella che lei sostiene. Lui non deve più venire in televisione, non deve più parlare, lui non deve più parlare, lui deve essere emarginato, perché lui non rispetta le regole e allora non rispetto neanch'io le regole democratiche. Lui deve stare a casa sua nel bunker, partecipare, se si degnerà, alle riunioni del Consiglio Comunale e deve stare a casa sua e basta Marino, perché lui non si può ascoltare, non si può ascoltare. È un insulto alle morti e alle sofferenze delle famiglie.